Ciao a tutti e benvenuti al Purparlè. Il Purparlè, lo ripeto ad ogni singola puntata, è un piccolo talk show diretto e interpretato da me e dagli ospiti che vado ad invitare ad ogni singola puntata. Questa sera sono in compagnia di due mie amiche che vado a presentarvi. Signore signori, Arianna Aldrighi. 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 A-L-D-R-I-G-H-I. Ben trovata, ciao. Margherita Trombetta. Questo me lo ricorda più semplice. Ciao, benvenuta. Allora ragazze, iniziamo la puntata sapendo i vostri dati generali. Quando siete nate, dove siete nate o vivete e cosa fate nella vita? Allora, io sono nata a Foligno il 24 giugno del 1991 e nella vita adesso faccio la mamma, a tempo pieno. Che è un grande lavoro. È un grande lavoro. Salutiamo la giovane Caterina. Ciao amore. Ciao. Prego. Io sono nata il 19 maggio del 91 a Foligno e vivo a Trevi e studio relazione internazionale Perugia. Cosa vorresti fare? Mi piacerebbe diventare cooperante. Ossia? Ossia andare a far parte di un'organizzazione non governativa per andare poi a lavorare su paesi in via di sviluppo come l'Africa o paesi orientali. Ok. Allora, mentre ho scritto questa puntata, nella sera che l'ho scritta, ascoltavo una canzone che si chiama Fly Away. È una canzone che non so se conoscete. La metterò sul disco, cioè come base sottofondo adesso quando faccio il montaggio. Vi piace volare? Volare con la fantasia molto. Moltissimo. Anche a me. Anche a te. Io sono una persona abbastanza fantasiosa, sì. È importante. Volare con l'aereo magari un po' meno. L'estate fa volare. L'estate. Eh, dipende come la passi. Se la passi a studiare come me non voli tanto. Voli sui libri. Io quando ero piccolina volavo in estate. Sì? Sì. Sì, perché spesso... Eh, adesso comunque i pensieri, le cose comunque che la vita ti prospetta quando sei più adulto. Il tempo è minore per, appunto, per volare, per spaziare nella fantasia. O quello che sia. O quello che sia. Abbiamo finito comunque la scuola tutte e tre. Sì. Almeno credo. Io credo di sì. Adesso non ricordo bene. Io no, io devo finire il quinto. Tu devi finire il quinto? Sì. Ok. Io devo prendere la laurea, quindi... Beh, comunque hai finito il quinto. Le superiori l'ho finito. Vi piacevano comunque sia le vacanze scolastiche? Il periodo delle vacanze scolastiche. Sì. Sì. Assolutamente. Beh, non andare a scuola era una gran cosa. Bello. Eh sì. C'era l'opportunità di fare tutto e di più, non solo con gli amici che vedevi a scuola. Se potevo uscire tutti i giorni. Potevi tornare tardi. Sì, poteva tornare tardi. Adesso si torna tardi sempre, quindi... Quindi comunque se torna tardi. Comunque sia, vi è dispiaciuto, anche se te non l'hai finita. Comunque sia a terminare. No, io adesso... Stai per. Ok. Finire il periodo scolastico. Delle superiori no. Nel senso io mi sono trovata molto meglio all'università. Non ho... Non ho grande nostalgia delle superiori. No, nemmeno io. Forse sarà stata la scuola sbagliata. Sì. Infatti ho cambiato scuola appunto l'ultimo anno. Che cosa hai fatto? Geometri e ero la persona completamente sbagliata per quell'indirizzo perché a me piace l'arte. Guarda, senso fretta. Però non ti vedo come geometri. No. Anch'io ho fatto geometri. No, non lo so se me ce vedi. Anche bene? Sì. No, mi state simpatica, però non mi vedo come geometri. Io matematica sono una pedecchia proprio. Una pedecchia. Sì. Beh, portate. La matematica è nei ragionamenti. Sì, però visto che noi ce l'abbiamo più astratti, a noi la matematica non ci serve. Non mi entra. No. Comunque sia, dopo l'esame orale, parlo con te, ti sei sentita più leggera? Sì, tantissimo. Tantissimo. Anche per me, anche perché per me era un gran peso svegliarsi tutte le mattine andando a scuola. Quindi appena ho finito le superiori, fatto l'esame orale, mi sentivo libera. Volavo appunto. Volavo. In quel momento volavo. Sto planando molto basso. Sto aspettando di volare anch'io. Parlando di cose leggere, vi piace sollevare cose leggere? Beh, le argomentazioni... Non lo so. In un senso molto materiale non ci ho fatto mai caso. Io l'ho intesa come argomentazione, invece. Come argomentazioni. Noi sempre, molto spesso, argomentazioni leggere. Sì. Sì. Perché siamo molto... Vabbè, parliamo... Sollevare anche nel dialogo. Comunque sollevo argomenti leggeri, quanto sia. Sì, spesso. Beh, è quotidiano, penso, tra amici. Dovrebbe. Penso. Sì, non si può parlare sempre di cose proprio serie e pesanti, no. Ogni tanto bisogna sbagarci. Sì, sono d'accordo. È importante non essere pesanti nella vita? Molto. Sì, moltissimo. Io sono circondata da persone pesanti. Non facciamo nemmeno altro, non serve. No, no. Assolutamente. Quindi quella è una branchia che non vedo molto. Però fanno il loro effetto, sì. Beh, troppo pesantezza dopo un po'. Annoia anche, no? Sì, ma credo che a volte essere in qualche modo superficiali, anche se è brutto dirlo, però è bello. È un vantaggio tante volte. Può essere un vantaggio. Poi ci devono essere sempre le mezze misure, eh, per carità. Però troppo pesanti magari no. Assolutamente. La noia può portare a forti implosioni? Assolutamente sì. Per quanto mi riguarda sì. Anche per me. Guarda, parlare con chi vi fa le domande, io sono cose che penso di me, quindi a volte quando provo noia provo esplosione dentro me stesso, quindi non è bello. Credo che sia molto brutto, insomma, come stato personale. Perché ognuno ha dei periodi, poi la vita è fatta dei periodi, quindi in qualche modo... A me fa prendere tanta ansia la notizia. Anche a me. Tanta. Tanta. Se mi annoio divento veramente ansiosa. E il tipo? Il tipo inizia a pensare, la mente viaggia, vola, vado a vivare, se mi annoio poi dopo è tragica la situazione, per riprendermi me ce vuole un po'. Quindi sì, sono d'accordo. Tento sempre di non annoiarmi, tento sempre di avere qualcosa da fare per evitare... Ma io adesso non c'ho problema. Ah, so bene, eravamo uscerti proprio. Ti impegnava a... Sì, adesso sì. Questo è bello. Com'è diventare mamma da giovane, se posso chiedertelo? Perché? Ma allora, dipende. È bello, stupendo, però non è facilissimo. Immagino. Non è facilissimo perché... Salutiamo, scusa, salutiamo anche Tommaso che vedrà la puntata. Ciao Tommaso. Però, certo, ci ho messo in conto tante cose, le amicizie che frequentavo prima sono quasi svanite, le persone si allontanano e poi vabbè è un'altra vita che a 21 anni io non me la prospettavo perché è capitato così. Quindi l'abitudine c'è stata, c'è stato un lungo periodo per abituarmi. Ma tornando a quello che dicevamo prima della noia, delle implosioni e quant'altro, l'uomo si fa delle paranoie, secondo voi? Tante. Tante. Le donne in questo caso. Donne, uomo, donna. No, io penso che sia da entrambe le parti, ma magari gli uomini lo danno meno a vedere. Sì. Forse. Forse. Magari hanno semplicemente un modo diverso di farsi le paranoie rispetto a noi. Del tipo che intendi di dire? Beh, magari anche dato che comunque sia gli interessi sono diversi, anche le paranoie poi sono diverse, poi l'uomo tende sempre a non farle vedere, mentre noi se siamo paranoiate si vede subito, ci si legge in faccia. Sì. È importante non rimpiangersi nella vita. Sì, è importante, ma credo che ogni tanto sia necessario. Sì. Secondo me avviene naturale che qualche rimpianto forse sia. Sì, i rimpianti ci stanno sempre. Anche piccolini, però. Però sia necessario perché secondo me dai rimpianti poi capisci quello che nella tua vita futura vorrei fare e non vorrei fare. Capisci gli sbagli, capisci cosa vuoi. Io per me li chiamo errori in questo caso, non rimpianti. Magari ho fatto qualche errore e non lo rimpiango, però da lì c'è stato comunque l'insegnamento che mi porterà o mi ha portato a non fare più determinate cose che prima ho fatto. Per me non devono essere necessariamente errori. Magari qualcosa che avresti fatto in modo diverso è il rimpianto di come l'hai fatto e sai che magari non lo rifarai. Vi piace comunque affrontare problemi? Eh, giornalmente li affronto. Ognuno affronta dei problemi che possa essere il telefonino, il traffico o qualcosa di importante. Beh, fanno parte della vita i problemi. Sì, ma vi piace comunque affrontarli? Dipende che tipo di problemi sono. Fino a un certo punto. Beh, dipende. Se sono troppi dopo magari. Beh, è chiaro. Eh, l'attimo. Cioè, uno vorrebbe anche campare tranquillo. Cioè. Ho avuto un periodo che mi piaceva particolarmente affrontare problemi perché poi li risolvevo magari anche ad altre persone. Adesso proprio no. Meno problemi c'è stato. Meno problemi è meglio. È giusto semplificare la vita? Sì. No. Io me la so complicata tanto. Mi piace complicarmela. Ti piace complicarla? Sì. Che segno sei? Cancro. Non ne capisco una mazza di aeroscopo, però qualcosa di che segno sei? Toro. Ok. Affrontare il problema credo che sia difficile ma costruttivo. Sì, assolutamente. Assolutamente. Perché la vita va affrontata. Per com'è. Vi piace? Certo. Poi troppo semplice annoia la vita. Eh. Assolutamente. Però. Io ho scritto una frase tempo fa su Facebook e dicevo un pensiero che avevo letto in un libro, ossia il bene è il nemico del meglio, ok? che è vero perché spesso ci si accontenta di aver trovato la soluzione in maniera superficiale quando scavando più a fondo si può raggiungere un risultato più... Non il meglio ma l'ottimo insomma. L'ottimo, sì. Però a volte l'essenziale può essere migliore ancora. Cerco di rendervi l'esempio. Pensiamo alle macchine. Una delle macchine più vendute, per lo meno dove siamo noi, negli ultimi anni è la Smart. La Smart non ha niente. Niente. Non ha accessori. Massimo il cambio automatico è piccolo. Passi. Però non c'ha accessori, quindi è proprio essenziale. Se parliamo di altre cose, questo è l'essenziale. Questo ha l'essenziale. È un telefono molto funzionante con un tasto. Quindi siamo... Cioè, almeno come pensiero personale dell'essenziale. Penso, eh, attenzione, sono pensieri miei, eh. Non voglio dire che... Assolutamente. Sì, alcune volte la soluzione è sempre quella più facile e meno articolata, insomma. È difficile fare cose semplici? Alcune volte sì, secondo me, perché la mente... Cioè, quando io parlo per me, mi trovo ad affrontare una cosa. Cerco sempre di dare il più, il massimo. Mentre il massimo lo do essendo me stessa, senza stare troppo a pensare e a ripensare su determinati concetti. Che quello poi a me fa male. Devo essere... Non so se capita anche a te... Più pensi, meno fai. Sì. Più pensi, meno pensi. Sì. Quindi... È il... Per me mi devo bloccare. Dico, beh, aspetta un attimo. Sii te stessa e trovi la soluzione. Infatti le cose che ci riescono meglio a me e te sono quelle che ci vengono spontaneamente. Sì. Ho scritto un pensiero, scusate se dico le cose mie, ma... L'altro giorno su Facebook, sempre, in cui ho scritto che pensare fa venire la nebbia dentro la testa. Sì, appunto. E con la nebbia non si vede niente. Quello che... Sì, ma una di quelle nebbie fitte, però... Che dicevo io. Che neanche gli abbandianti della macchina sconfiggono. È vero, è vero, è vero. È vero.